Qualche cosa che ci appartiene e che non sempre utilizziamo al meglio. L'immagine che mi piace usare è come se fosse un nastro, il tempo, che noi lentamente srotoliamo. Quanto tempo ci rimane ancora? Quanto spazio abbiamo? Non lo sappiamo, però sappiamo che in questo momento il tempo mi appartiene, ci appartiene. E allora quale qualità di vita? La realtà di vita che ci aspetta. 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 La realtà di vita che ci aspetta.